Ehi lobo che fanatici, io sono TheLarzo e bentornati in questo nuovo video. A parte che non ho rifatto il letto, ma ok, fate finta che in realtà sia fatto. Oggi torniamo a grande richiesta con un video reazione alle YouTube Poop e ai video divertenti in generale, fatti da voi, che riguardano me. E' da un bel po' che ne sto raccogliendo ed è da un bel po' che mi state chiedendo di riportare un video come questo, dato che ne avevo portato uno a fine agosto e vi era piaciuto tantissimo, poi ve lo lascerò nelle schede a fine video, di qua a fine video, in cui avevo fatto la reazione alla YouTube Poop sull'intervista tripla. Oggi invece farò una bella collezione di vari video presi sulla rete, che sono riuscito a trovare, ovviamente non ci saranno tutti perché ho notato che ce ne sono tantissimi, quindi magari ci dividiamo in episodi, oggi ve ne faccio vedere alcuni, nel prossimo video ve ne faccio vedere altri. Se doveste fare un video su di me divertente, qualcosa del genere, contattatemi che sicuramente me lo metto da parte. Io vi invito a lasciare ovviamente un bel mi piace perché questa tipologia di video è stata richiesta tantissimo da voi, quindi ovviamente supportatela con tanti like. Adesso vi lascio la reazione e ci sarà da divertirsi, come al solito. Ok, il primo video con cui voglio iniziare è un video che ho tipo scaricato un sacco di mesi fa, dato che colui che l'aveva creato mi aveva detto che stava per chiudere il canale, non mi ricordo per quale motivo, quindi mi ha detto di scaricarmela per evitare di perderla. E io l'ho fatto al volo perché questo è buono, lo so, uno dei video più divertenti che io abbia mai ricevuto, dura pochissimo, ma c'è un pezzo che mi fa veramente scompisciare. Non lo vedo da mesi, in effetti, però me lo ricordo e quindi voglio iniziare con questa per forza. è difficile. Quando ho preso Mew in due secondi. C'è un pezzo adesso? Oddio, già iniziamo male, guarda la mia faccia già, è diventata tutta una roba unica, rossa. Oddio, mi prude tutta la testa, no. Ragazzi, io non ce la faccio. È troppo bello, guarda, mi fa troppo ridere. Questo frame è troppo bello, veramente, non ce la faccio. Mi ricordo quando l'ho vista la prima volta, poi l'ho fatta vedere a tutti i miei amici perché è proprio un gioiello questo, un gioiello. Vorrei ricordarmi come si chiama, il tipo che l'ha creata, ma purtroppo non me lo ricordo e quindi niente. Se stai guardando questo video, grazie. Nel computer ho anche questo, che a giudicare dalla... Nel computer mi sono ritrovato anche questo video, che a giudicare dalla grafica pessima, dalle cuffie pessime e dalla luce pessima, dovrebbe essere di più di un anno fa una mia qualche reazione a sole e luna. Non mi ricordo assolutamente che cosa ci sia in questo video, ma se ce l'ho nel computer un motivo ci sarà. Dura 27 secondi, vediamo. La leggenda della lotta. Ho visto rosso e blu. Da dove cavolo esce quel Dlarz con i capelli lunghi rosa che vola? E poi c'è Yotobi che balla, tipo. La mia faccia dietro? Perfetto, perfetto. Ecco perché l'avevo scaricato. E adesso passiamo ai video che sono ancora su YouTube. Questo è Disturbing Wolves, e si chiama Dlarz e l'infermiera che fa l'inchino. Me l'ha fatto notare proprio il creatore stesso nei commenti del mio spacchettamento di ieri. Tipo me ne sono innamorato tantissimo. Quindi vi raccomando, andate sul video originale e andate a lasciare un bel mi piace perché le animazioni spaccano troppo. Anzi, se volete potete farmene una simile. Vi giuro le adoro. Quindi se volete fatemele. Guardate questa che spettacolare. Prima però ci curiamo. Donna! Troppo bello come animato. Anche se il disegno rudimentale fa ridere lo stesso. Non ho tutto il tempo. Suoviti. Andiamo. Ma sbrigati. Forza. Non fare l'inchino. Non fare lì. Oh mio Dio l'ha fatto. E poi il finale non me l'aspettavo quando l'ho visto. Vi giuro perché... Cioè questa cosa tipo non era voluta da me nel video originale però è stato lui o lei non l'ho ancora capito, scusami a fare questa cosa che io guardo le tette dell'infermiera e tipo... Ti adoro! Questo Poké Fanatici è bellissimo. Si chiama Dlarz Can Can ed è stato fatto da... Tra l'altro ho una persona che conosco anche nella vita di tutti i giorni. Un mio amico che ha un canale che si chiama La Sedia a Due Gambe come potete vedere e fa troppo ridere. Guardiamo. Qui c'è un montaggio assurdo dietro questo video. Hey Lavo che fanatici e benvenuti in questo video giusto per caricare... Che capelli avevo? No aspetta, questo non dovevo dirlo. Ho messo tutto a tempo! Oddio con la E fa ridere di più! Aspetta, devo rivedere il pezzo dei like che fa troppo ridere. Faccio dei versi a volte. Guarda... Aspetta... 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 Iscrivetevi a Dlarz. No, iscrivetevi alla Sedia a Due Gambe per favore. Oh mio Dio. C'è le lacrime di nuovo. Vai, fantastico. Questo video è di un canale che si chiama Dario e si chiama YouTube Poop Ita. Dlarz spacchetta e trova cose comunissime. Tra parentesi finito tranquillamente. Un titolo che ti voglio tra l'altro rubare lo userò prima o poi perché è troppo clickbait. Ehi loboche fanatici io sono Dlarz e bentornati in questo nuovo spacchettamento. Oggi siamo sempre insieme alla mia ragazza Dlarz. Vabbè. Le veline! Le veline! Addio, quanto mi manca fare i video con Ivan. Guarda quanto sono belle queste veline! Oggi come avevamo promesso sesso. No! No! Stando di brutto 1, 2, 3, 4 e 5. Prego. No! Niente! Non me ne ho accorto! Mio Dio! No! La mia ragazza che fa la cucina messa in quel contesto! No! Non me ne ho accorta! No vabbè c'è! Quanto dura sta roba censurata! Vabbè c'è! Non solo è l'una ovo a ombre ombre cacate! Ombre cacate! Benissimo siamo anche finiti in tendenza dopo due ore che era uscita e abbiamo battuto 45.000 minuti e non era mai 45.000 minuti per il cazzo ma a fine video vabbè c'è il culo sono anch'io nel video quindi esattamente anche perché motivo in più per guardarli no! no! ecco toto perché toto? Magikarp Magikarp ki ki energy lol c'è shi che tra l'art testimone di ma no! bambi bambi shish ok al posto di shinotic shish no però devi mettere shish notic era meglio però c'è fantastico io cosa ti ho dato caterphe caterphe energia elettro espor caterphe espor tuveranza tuveranza ok ok adesso ognuno andrà con la sua io vado di fini 3 4 e rur rur no no allora se ultra pareggiamo se hyper pareggiamo se fuori serie pareggiamo pareggiamo comunque vabbè amore vai hashtag nei commenti pareggiamo cosa sta diventando questo video non guardare dimmi tu eh vai hai fiatto? no superanza un lato non ci credo con flex e strappo vabbè no vabbè no vabbè all'ultima bustina amore la sapevo che non mi avresti deluso oh mio dio finale super cliffhanger oddio Dario sei sei magnifico hai fatto una youtube poop che è proprio una youtube poop la frase che ho appena detto sembra una youtube poop quindi oddio e infine l'ultimo video di callari game che si chiama impara l'alfabeto con Lars alfabeto ignorante addio vai hanno fatto con chiunque questo video una migliore parola con la non poteva esserci se non o mio dio questo video tanto la reazione è una mia reazione giustamente solo graveller non bastava ci voleva tutto tutto il pool doppia i ex ci voleva ci voleva tutto e vabbè h come dì addio ero rimasto sconvolto da brion edward tranquillo tra un anno ti piacerà e vabbè lui no brutto comunque è troppo no questo video no questo video no mi colpisce nel profondo c'era una siringa l'ho vista l'ho vista la siringa oddio questo spacchettamento quanto è vecchio era il primo con fede questo guarda quanto ero più in pantello prendevo pure in giro le fashion blogger non resisto a sto video che affia oh ora ah ol ah 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 Oddio nooo Sto video nooo Poverino Nooo Ce l'ho anche adesso Oddio ragazzi sto morendo di caldo Non hai firmato questo contratto Hai firmato il contratto Ti ho dato i soldi Ok vai Ma no Eh infatti Regali dei Pochi fanatici Eh lo sapevo No Quella Pixelmon La devo rifare la Pixelmon Con gli iscritti Oddio Che ricordi Oddio Grafica brutta Vabbè Tanto brutta non è Eh però insomma Si poteva fare meglio Calcolate che era il 2015 L'ho fregato tantissimo Fede in questo video Fede che si è trattenuto Ha detto solo K Per fortuna non ha continuato Se no dovevo censurarlo L'arte Oh mio dio Ultra Ultra La nascita di School of Lards Imbattuto Pelline Guarda quanto sono belle queste pelline Guarda quanto sono belle queste pelline Z come Zaygard Ecco l'alfabeto Ora tocca a te ABC ABC L'alfabeto e questo qui L'alfabeto è questo qui